Sergio Boschele per il WWF che quest'anno ha scoperto le api. Prego Sergio, sapete che ci sono anche le api, l'apicoltore? Quando arrivano i bambini al nostro stand, io racconto subito una piccola storia di questo tipo. Noi del WWF di solito portiamo come argomento discorsi sul lupo, sull'orso, sulla tigre, rinoceronte, sono un po' i nostri animali simbolo. Però a questi bambini ho detto, ragazzi mi spiace deludervi, ma io vi porto una chiacchierata, un discorso, un gioco su un animale piccolissimo, non un rinoceronte, non una tigre, ma un'ape, un semplice e semplicissimo insetto. Ma guardate che questo insetto è fondamentale per la vita di questo pianeta, ma anche per la vita di noi uomini. Grandissima parte del cibo che noi utilizziamo, di cui noi abbiamo bisogno, viene di fatto prodotto dalle api, la frutta, la verdura. Cioè senza l'impollinazione da parte delle api, dei fiori, non avremo frutta, non avremo la verdura, non avremo il foraggio per dare agli animali che poi utilizziamo per ottenerne carni. Quindi è un animale piccolissimo, apparentemente, ma è di fondamentale importanza. Purtroppo però l'ape è in crisi. Nel nostro mondo, in questo mondo un po' forzato, diciamo, in cui facciamo agricoltura intensiva, usiamo molti pesticidi, in cui cambia il clima, l'ape sta soffrendo. E noi dobbiamo fare tutto il possibile per difenderla. Quindi non solo il grande animale, ma anche il piccolo animale, che forse è più importante di quello grande. Grazie, bellissime parole, Salgia Boschile, buon lavoro. Ciao, poi rientro! Grazie a tutti.